Come può il design di un'auto darci sensazioni di guida come queste, con la leggerezza, con un volante ridotto, con un cruscotto più alto per tenere alto lo sguardo e semplificando per arrivare all'economia pura, così non ci sarà più distanza fra la superficie della strada e quella della nostra pelle. Et voilà, nuova Peugeot 308, design for eye sensation.